È lo Stato, o meglio, l'attuale governo, che chiede dai 30 ai 60 centesimi al metro quadro. Dipende dai comuni, per compensare il mancato introito dell'Imu parzialmente soppressa. A squarciare il velo su un governo che annuncia una riduzione della pressione fiscale, ma di fatto fa pagare più tasse, è il movimento consumatori ADUC. La Tares, spiega l'associazione, sostituisce le vecchie imposte sulla spazzatura Tarsu e Tia. coprirà interamente i costi del servizio di raccolta. Sarà riscossa dai comuni e sta arrivando in questi giorni nelle case degli italiani. L'accusa al governo di tagliare le tasse con una mano e di aumentarle con l'altra arriva anche dalla CGA di Mestre, secondo cui nel 2014 la pressione fiscale scenderà dello 0,1%. Eppure i contribuenti pagheranno 6 miliardi e 100 milioni di euro in più di tasse, perché l'aumento dell'IVA spazzerà via tutti i piccoli tagli alle tasse concessi. Del resto, come sarebbe possibile altrimenti mantenere i privilegi che la casta continua a dire di voler ridurre, ma che di fatto non riduce?